Casi Covid in aumento, seppur senza particolari allarmismi, da più parti arriva l'invito alla prudenza. Al momento l'unico vero provvedimento adottato è l'obbligo delle mascherine negli ospedali e nei luoghi di cura. Mascherine in tutti i reparti, obbligo per chi ci lavora, per i pazienti e per chi si riega a far visita ai propri parenti. C'è anche l'obbligo di eseguire il tampone per chi entra in pronto soccorso e di affetto da stato febbrile o da problemi alle vie respiratorie. Aumentano i contagi Covid in Irpinia, che anche questa settimana si conferma alla provincia con il valore più alto in tutta la regione Campania. L'appello alla prudenza e al buonsenso, questo è ciò che hanno chiesto anche i dirigenti scolastici fin dal primo giorno di scuola. Per cui i ragazzi entrano dai diversi accessi della scuola, è già tutto organizzato da giorni sul sito. Allo stesso modo abbiamo messo nelle aule dei dispenser con il gel e ricorderemo di evitare troppo di abbracciarsi e di lavarsi spesso le mani. Abbiamo comunque i sanificatori nelle aule e speriamo che quest'anno vada tutto bene. In questo momento si parla di buonsenso, perché come sapete non è previsto ancora nulla. È una preoccupazione anche mia, nel senso che bisogna sempre essere attenti. Il buonsenso dice di non abbandonare drasticamente le precauzioni che sono semplici da tenere. Quindi evitiamo gli assembramenti, evitiamo di essere, come dire, se siamo raffreddati, non ci dimentichiamo che esiste uno strumento comodo, che è quello della mascherina, che può essere utilizzato. Ma intanto a scuola, come sui luoghi di lavoro, non ci sono restrizioni. Niente isolamento di 5 giorni per positivi sintomatici e asintomatici, niente tamponi e mascherine. Intanto è stato istituito un tavolo interdisciplinare per verificare quali misure adottare per evitare che si torni indietro. Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Insieme ad altri ministeri si deve stabilire che tipo di malattia abbiamo davanti ora e serve un percorso interdisciplinare.